Sinceramente non ci ho fatto neanche caso, non ci ho fatto caso perché sono venuto a sapere da altre persone quando poi ho chiesto qua e ho detto che non c'è assolutamente nessuna bocce veritiera, quindi da lì me ne sono altamente fregato e ho continuato ad allenarmi senza problemi quindi non mi ha dato alcun tipo di fastidio, comunque niente di tutto ciò tutti quanti in generale, forse viene fuori un po' più la mia perché non ho avuto un inizio di stagione molto esaltante quindi si è evidenziato un po' più rispetto agli altri ma comunque a tutti quanti è successa una trasformazione positiva da questo cambio al volo insomma anche perché Valerio è veramente una persona che ti dà carica ancora prima di entrare in sbagliatoio quindi figurati quando sei in campo ti trovi davanti sai già che devi giocartela al meglio delle tue possibilità e soprattutto giocarla a viso aperto altrimenti se gli dai un po' di spazio allora ti mangiano vivo quindi sapendo di questo sappiamo che dobbiamo dare tutto poi come abbiamo fatto con Sassari che ce la siamo giocata fino alla fine e con loro insomma abbiamo fatto un'ottima prova nonostante averlo perso oppure quando ci siamo trovati in piena difficoltà con Venezia da loro che abbiamo recuperato quasi 20 punti quindi dobbiamo avere quello spirito là per tutta la partita però cercando sempre di essere in pieno controllo di quel che facciamo se no così si può provare a contrastare una squadra organizzata e molto forte come quella di Milano grazie a tutti